E' il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, l'ospite d'onore alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Prevista questo pomeriggio, a partire dalle 17, al Museo Regionale di Messina, una cornice straordinaria per due ordini di motivi. Il fatto che si tiene al di fuori dei locali dell'Ateneo e il forte messaggio culturale che si vuole lanciare, come a dire che occorre una stretta sinergia tra le istituzioni che in città promuovono il sapere perché Messina finalmente decolli. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, della direttrice del Museo Regionale di Messina, Caterina Di Giacomo e del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Gaetano Manfredi, a relazionare il Rettore Salvatore Cuzzocrea, a intervenire alla cerimonia, anche Umberto Trimboli, rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, e la Vigna Parisi, rappresentanza degli studenti.